Uno dei modi per automatizzare e gestire la creazione di un panorama in Photoshop CS3 era l'utilizzo di Photomerge, l'abbiamo visto nel capitolo 17. Vediamo adesso quali sono le novità che riguardano questa funzione all'interno di Photoshop CS4. Possiamo scegliere di attivare Photomerge da Photoshop direttamente, in File, Automatizza, Photomerge, oppure su Bridge, selezionando le immagini e andando su Strumenti, Photoshop, Photomerge. Quali sono le differenze rispetto alla versione precedente? Nel primo pannello, come in Photoshop CS3, avevamo la possibilità di scegliere i file da caricare. Questo l'abbiamo fatto già all'interno di Bridge. Con Sfoglia possiamo navigare all'interno delle cartelle per aggiungerli manualmente. Possiamo scegliere se includere dei file o direttamente un'intera cartella. E poi ovviamente possiamo scegliere il tipo di allineamento da utilizzare. In Photomerge di Photoshop CS4 ovviamente compaiono i nuovi tipi di proiezione, sferica o collage, e le due nuove funzioni, rimozione, vignettatura, correzione e distorsione geometrica. Una differenza fondamentale però, che in una prima analisi non salta all'occhio, è la mancanza di una funzione che era presente in Photoshop CS3, il layout interattivo. Questo cambia in modo radicale l'utilizzo di Photomerge, perché in Photoshop CS3, con il layout interattivo, potevamo decidere, spostare le foto, fare delle modifiche al panorama, decidere ad esempio il punto di vista e una serie di opzioni, in un pannello dedicato. Questo non è più possibile all'interno di Photoshop CS4. In sostanza scompare la possibilità di interagire con il panorama prima che esso venga creato. Photomerge adesso è diventato semplicemente un automatismo, come stiamo vedendo adesso, dove scelgo i vari criteri per la creazione del panorama e vado andando a cliccare su OK direttamente alla creazione. Questo è il risultato, in sostanza è come se avessimo fatto manualmente prima l'allineamento automatico livelli e successivamente la fusione automatica.